Io sono Elvira e non ho la voce. Beh, alto un passo. Sono qui, non mi muovo. Dai, vieni un po' qua che ti faccio due straparvi. E allora li metto da parte per i tempi duri, che quando ce l'ho bisogno li riprendo fuori e mi ristro fino sul cuore. Bea, dimmi che cosa hai combinato. Oh, Lu, io non volevo, giuro. Avevo qua dentro l'essenza del male. Guarda, non ero io. Ma cosa, Bea, che cosa? E poi me li fai lo stesso e li strapassi. Se cominci a sbottonarti. Ok, Lu, te lo dico. Gli ho infilato nelle tasche del cervello di bovino adulto. A Bonandi, che ho domagattato, che mi volevo vendicare. Oddio, no, il Bonandi che dico io. Infatti, e non riesco a dormire, una paura, e se mi scopre. Nessuno ho visto, però. Solo Fran mi faceva da palo il corridoio. Ma che gli sto proprio bene a quello, il tonima nero di noi poveri. Prendeva per il culo, famelico, una beppa. Si è ingottato a crippare. E poi mi ha tirato la cimosa ingessata sul maglione lungo blu. E rideva, carogna. Diceva, ti mancano solo i mocassini da Chiara Lubic. Sei una bella mora, non ti facevi suora. E il resto non te lo posso dire. Che sono tornata a casa sboccolata da quante che ne ho presa. Grazie.